Libera la tua fantasia in cucina con l'app Kentwood Club. Impara i segreti e i trucchi per preparare tanti piatti unici. E diventa anche tu un grande chef grazie all'app Kentwood Club. Naviga tra le ricette dei nostri chef e aggiungile alla tua lista della spesa. La lista della spesa è sempre con te, anche offline. E ti aiuta a procurarti gli ingredienti necessari per preparare la ricetta. Cerca le ricette per parola chiave o per filtri avanzati. Puoi anche filtrarle per prodotto Kentwood. Per ciascuna ricetta hai sempre a portata di mano gli ingredienti necessari e gli step di preparazione. Puoi salvare le ricette preferite per averle sempre a portata di un tocco. Con il comando vocale scorri gli step della ricetta senza toccare lo smartphone. E lasciati guidare nella sua preparazione dalla voce integrata nella app. Monta due uova con la frusta insieme a 90 grammi di zucchero a velocità 5. Carica le ricette dei tuoi manicaretti e condividile all'interno della community. Scopri le ricette degli altri utenti e sfida le loro abilità culinarie. Kentwood Club. Disponibile ora su App Store e Google Play. Scaricala gratuitamente. Grazie per la visione. Grazie per la visione.